Olmi Energy, progettazione ed esecuzione di impianti idrotermosanitari e riscaldamento. Le migliori soluzioni per l'abbattimento dei costi delle bollette, con prodotti unici per il tuo benessere quotidiano. La nostra priorità è quella di far risparmiare il cliente, seguirlo a 360 gradi, dal sopralluogo fino alla completa installazione e collaudo del nuovo impianto. Il tutto eseguito dal nostro personale qualificato. Chiama per un preventivo gratuito o vieni presso il nostro showroom in via Statale Fiorentina 287, località Olmi, Quarrata, Pistoia.